tuco 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 tuco-tuco non dormi... non riesce a dormire? tranqui bello, tutto ok? non è un problema, tutto bene adesso? ci sono io qui con te anch'io non riesco a dormire quindi è un po' compagnia fino a che non c'è un po' e questo è un po' e questo è un po' ti fa dormire non lo sai? voglio solo rassicurarti e dirti che domani sarà una giornata stupenda e andrà bene e tu andrai alla grande quindi non devi preoccuparti devi solo suadare la mente da questi brutti pensieri che ti tengono svegli anche non c'è nulla che possa andare male quindi adesso insieme vediamo per respiro respiro anche oggi è andato bene no? meriti tanto riposo meriti di riposarti più di chiunque altro ti prometto che resterò qui con te fin quando avrai chiuso gli occhi ci sono io? molto bene quello che farò sarà darvi tante 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 carezze come piace a te grazie togliamo via tutte le tensioni che hai accumulato che hai accumulato durante questa giornata che hai accumulato durante questa giornata che hai accumulato la carezza 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 la fia la carezza La carezza il aperto ho il set liberati da tutte le tensioni e rilassa il tuo volto rilassa il tuo volto bene comunque andrà domani sarà un grande giorno perché tu vali tanto tantissimo e sei capace di ogni cosa non devi preoccuparti non devi preoccuparti non devi preoccuparti non devi preoccuparti che in tutte queste super carezze io lo so che le tue mape sono sempre più pesanti e non si chiudere solo le tue ombre in tutte le tue ombre va bene, va bene, va bene si chiudce a Police. che chiusi be tranquillo ok va tutto bene e qui io non riesco a dormire sai però bella avanza molto molto meglio che io sono qui con te ma tu sei qui con me bene 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 senti senti che sei nel zero senti che sei nel zero senti che sei nel zero ok 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 ci basta solo togliere quella brutta 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 la lasciamo la parte ok la mettiamo sul gomodino ok domani mattina non ci sarà più non ci sarà più scommaso non ci sarà da aspettarti perchè perchè sarà scopa se la prendiamo facciamo un taionetto un taionetto magari ce ne saranno altre ma io sarò qui con te anche domani e tutti i giorni e tutti i giorni se tu lo vorrai e non devi preoccuparti non devi preoccuparti fino a che io sarò io con te che andrà sempre tutto bene e e e l'effetto e basta non si basteranno solo un po' di carezze per dormire per inchiudere gli occhi ok bene bene ok a volte basta solo solo sentirselo dire che andrà bene ok io lo so che tu lo sai quanto vali ma io sono qui a ripetertelo tutti i giorni se vorrai ok fino a che tu poi un giorno ci crederai davvero ok però chiudi gli occhi intanto ok molto meglio molto 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 ora va molto molto bene 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 e prova a dormir prova a dormir ok 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 ecc ok ecco 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 tutto tutto ok vedrai adesso ti riuscirai tu mami ti sveglierei con un sorriso con il tuo stupendo sorriso devi farlo tutti i giorni di quando ci sarò io a ricordarti di farlo ok 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 tutto qui 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 Ora ora di tutte le ultime carezze ci siamo quasi tanto tanto su attrazione attrazione e 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 dorme 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 ok e 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